La ossa inviata speciale, Scordarella Renata ormai nominata, sta per regarsi al nuovo hotel sull'asistofrocomombo per assistere all'operazione di peso della grande strada di box che si tratterà domani al palazzetto di Leur, operazioni di peso e un messaggio dei vostri pugili per voi. Siamo qui con Pasquale, di Silvio, detto il mio domino. Ho una domandina rapida per te Pasquale. Dimmi, vuoi lanciare un messaggio per domani ai tuoi tifosi? Vedete numerosi, grande spettacolo, ci sarà il palazzetto dello sport, vi aspetto in tanti. Ok, tutto fatto? Yes. Perfetto, grazie Pasquale. Ciao Renata. Cigliello che sta mangiando. Ciao. Buon appetito a me. Una domandina semplice e banale, no perché una domanda è, vuoi lanciare un messaggio per il tuo pubblico per domani? Il mio pubblico già sa tante cose di me e mi seguiranno numerosi. Li ringrazio per questo e spero di farli divertire domani sera. Grazie. Bebe, bebe, hola. Hola. Dicami un messaggio per il vostro spettacolo, buon mannano. Chico, siamo qui e abbiamo cumplito con il passaggio a Bacula. Mañana vamos a dar lo mejor, guerra a muerte y con el mazo. Grazie a tutti. Ci lancio un messaggio? Domani sera vi aspetto numero uno. Tutto qua? Sì. 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 Domani sera nel Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano in Roma andrà in scena un evento pugilistico che avrà protagonisti nell'incontro valevole per il campionato italiano dei pesi leggeri. Pasquale Puma di Silvio, campione in carica che verrà sfidato dallo sfidante ufficiale Vincenzo de Black Hat Finiello. Successivamente, per il campionato dell'Unione Europea dei pesi Super Gallo, il campione in carica lo spagnolo Abigail Medina verrà sfidato dal romano Emiliano Globetrotter Salvini. In apertura avremo gli incontri internazionali che vedranno protagonisti Roberto Bassi ed Emanuele Sioux Blandamura e tre incontri valevoli per il campionato italiano Neo Pro. Che guerrieri entrino nell'arena? E finisce il tempo delle parole ed inizia la legge del ring. Ricordiamo la diretta televisiva dalle ore 23 su DJ TV con il commento di Fabio Panchetti ed Alessandro Dura.